Nessuna costituzione di parte civile per il caso di Irma Forte questa mattina durante l'udienza preliminare presso il Tribunale di Isernia. Nell'appuntamento odierno si è proceduto infatti alla costituzione delle parti come spiegato dall'avvocato Demetrio Rivellino che insieme al collega Giuseppe De Rubertis assiste la donna indagata con l'accusa di omicidio nei confronti del marito Carlo Giancola avvenuto il 24 dicembre 2022 nell'abitazione di Santa Maria del Molise. Quindi adesso è stata solo oggi la costituzione delle parti, non c'è stata costituzione di parte civile da parte dei figlioli. Il segnale è importante, l'unità di questa famiglia che nonostante la tragedia comunque vede i figli a fianco alla mamma. La donna, come sottolineato dai legali, è emotivamente provata e sta ricevendo sostegno psicologico. Ogni tanto riappare questa scena, la stanno facendo assistere i figli, c'è un supporto psicologico con i figli, diciamo, allevia il dolore di questa tragedia. Si tornerà nuovamente in aula presso il Palazzo di Giustizia Pentro il prossimo 9 aprile. Intanto è stata richiesta la trascrizione delle intercettazioni. L'udienza preliminare sicuramente sarà un'udienza che vedrà altre udienze fissate. Per oggi c'è stata la richiesta di trascrizione delle intercettazioni, quindi a nomi da un periodo fonico. Poi il 9 aprile torneremo in udienza e proporremo altre questioni, fino a quando poi verificheremo se si arriverà al rinvio a giudizio davanti alla corte d'assise di Campobasso. Ovviamente l'udienza preliminare, il giudice, come sapete, con la riforma cartabbia, deve valutare anche la ragionevole previsione della condanna della signora che ha confessato e che ha raccontato la sua verità.